buongiorno a tutti voi cari lodes benvenuti da nat benvenuti da giusi e benvenuti dal polastro vogliamo presentarvi il nostro bellissimo canale nati giusi ebbene sì ogni giorno un nuovo video nel quale parleremo di gossip di programmi tv di talent di reality e tanto tanto ma tanto trash che sappiamo che voi amate ma non solo anche ricette video divertenti fiction sitcom e le nostre super dirette live con le quali potete interagire con noi quindi avete capito cercate su youtube nati giusi ma iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per non perdervi tutti gli aggiornamenti e dunque ci vediamo su youtube e ricordatevi che nati giusi sempre con voi ciao 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 ciao